Grazie Presidente. Voglio prima di tutto fare i complimenti a ICAN per questo straordinario riconoscimento. Sono con il premio Nobel per la pace e sono contento di aver ospitato ormai nel 2015 un incontro qua in Parlamento per discutere di un impegno fondamentale di ICAN insieme a loro, quello sulla iniziativa umanitaria che è tutto sommato uno degli argomenti, uno dei fondamenti anche di riflessione politica che ha poi portato anche a questo trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Io credo che sia molto importante discutere di questi elementi in chiave anche di messaggio e di comunicazione ai cittadini. Io credo che una riflessione complessiva, piena, consapevole sul significato dei rischi umanitari delle armi nucleari non sia un patrimonio del tutto condiviso, compreso, acquisito da parte della popolazione e anche dei Paesi dell'Unione Europea. Quindi ritengo sia essenziale insistere nella discussione, nella informazione, nella comprensione in un mondo soprattutto sempre più a rischio di attacchi cibernetici, di incidenti e, diciamo, accadimenti casuali, forza maggiore legata anche al cambiamento climatico. Tante diverse eventualità che, a mio parere, incrementano ancora più che nel passato il rischio di catastrofe umanitaria legato alla presenza delle armi nucleari anche e in primis per i Paesi che li ritengono, più che per quelli verso cui potrebbero essere diretti. Quindi credo che sia encomiabile questo lavoro di dibattito e di impegno rispetto al trattato. Non c'è dubbio, e farò una domanda ora anche su questo, che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari ha sollevato diversi interrogativi per tutte le problematicità che ovviamente pone rispetto alla sua sostenibilità di fronte agli strumenti esistenti e rispetto in generale alla sicurezza internazionale. Io credo che il Parlamento europeo abbia fatto bene a prendere una posizione, a sostegno di una negoziazione di uno strumento di questo tipo. Credo che il Parlamento debba nuovamente esprimersi quanto prima, ora che questo strumento c'è, e credo che questa iniziativa non sia in contraddizione con gli esistenti strumenti, tra cui il Trattato di non proliferazione, ma possa essere complementare, così come non la vedo per le ragioni ben esplicate prima, anche con il supporto di alcune slide, rispetto all'appartenenza alla Nato e rispetto al ruolo della Nato. Credo però, e voglio fare questa domanda per concludere, ci siano sicuramente degli aspetti da chiarire, in particolare un tema che è emerso in alcune discussioni, anche nelle ricerche che per esempio ha svolto il nostro think tank del Parlamento europeo, il nostro IPRS, nel materiale che ci dà indisponibilità per riflettere sugli argomenti, un dibattito acceso sulla possibile contraddizione rispetto al tema della verification, rispetto agli standard presenti nel Trattato di non proliferazione. Quindi chiedo su questo anche a ICAN, di fronte a questi dubbi che ci sono, anche rispetto alla rapidità con cui il Trattato è stato messo in piedi e quindi il rischio di una superficialità rispetto a questo tema, se queste critiche, queste considerazioni che sono emerse, sono considerate corrette o eccessive e che tipo di risposta può darci su questo ICAN. Grazie.